Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie per essere con noi anche quest'anno. Fee Only Summit, il più grande evento sulla consulenza finanziaria indipendente. Do il benvenuto a tutti i presenti qui al Teatro Ristori di Verona e un benvenuto anche a chi ci sta seguendo in streaming. Sono in tantissimi e tantissimi sono anche gli appuntamenti che si svolgeranno nel corso di questa serata, infatti proseguiremo fino alle 19.30. Ricordo inoltre per chi è collegato in remoto che c'è la possibilità di visitare gli stand delle società in maniera virtuale direttamente dal vostro computer. Abbiamo quindi anche un'esposizione virtuale, ma oggi sapete che andremo ad affrontare dei temi, a sentire le view dei grandi esperti del settore. Con noi quindi professionisti, consulenti, addetti ai lavori, appassionati di finanza. Sono passati più di tre anni dall'avvio del nuovo albo che ha visto nascere ufficialmente la figura del consulente delle società di consulenza finanziaria indipendente. Oggi appunto avremo modo di sentire l'industria e gli asset manageriali in questo settore. Quindi direi che siamo pronti ad iniziare con chi ha permesso anche quest'anno, anche in questa sessione invernale, di ritrovarci. Quindi consultic con Cesare Armellini, Giuseppe Romano e Luca Mainò. Vi chiedo di accoglierli con un applauso. Così facciamo sentire appunto che siamo presenti anche dal vivo, finalmente, importantissimo anche, insomma, condividere le opinioni anche direttamente, di persona. Ma non trascuriamo assolutamente chi ci sta seguendo. Vedo che sono già tantissimi in collegamento. Passo subito la parola a Cesare Armellini per presentare la realtà di Consultic, per chi ancora non la conosce. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per la numerosa presenza. Abbiamo, ormai ci siamo abituati a questi collegamenti anche in digitale. Abbiamo una presenza veramente numerosa online. Bene, quest'anno è un anno non importante, non, diciamo, come abbiamo detto negli anni precedenti, un anno, vuol dire, dove sono successe cose molto positive, siamo riusciti a ottenere certi risultati. Quest'anno abbiamo raggiunto veramente il traguardo. Il traguardo di 20 anni di lavoro di Consultic ci ha permesso di riuscire ad arrivare all'affermazione totale della nostra figura professionale. Cosa significa aver raggiunto il traguardo? Perché molti di voi possono pensare l'albo di categoria che riguarda le nostre, diciamo, figure operative, è partito il primo dicembre del 2018 e quindi potevamo pensare che quella era la data fatidica dell'affermazione. Invece, quando si è realizzato effettivamente il progetto? Nel 2021. Nel 2021 perché? Perché l'accesso, diciamo, tutti coloro che vogliono, diciamo, fare questo mestiere, tutti coloro che hanno iniziato a iscriversi alle nostre sezioni dell'albo, sono arrivate in gran numero e ad oggi tra coloro che si sono iscritti alle nostre sezioni e coloro che hanno presentato le domande di iscrizione, abbiamo superato ampiamente i 500 soggetti. 500 soggetti tra persone fisiche e persone giuridiche vuol dire che c'è stata l'affermazione definitiva della nostra figura professionale. Ora c'è una crescita che continua, diciamo, a incrementarsi, che lo vediamo dalle domande che stanno pervenendo, non c'è più nessun dubbio sulla nostra categoria professionale, addirittura noi stiamo crescendo anche se qualche vincolo all'ingresso c'è ancora, stiamo aspettando un decreto del Ministero che aprirà ulteriormente le porte alla nostra categoria professionale. Però quest'anno veramente, diciamo, 20 anni ci sono voluti, 20 anni sono stati importanti, però in 20 anni abbiamo costruito tanto, soprattutto dal punto di vista professionale, perché noi ci tenavamo che chi opera in questo settore possa operare veramente con una professionalità elevata, perché questo significa affermarsi sul territorio, dare qualità agli investitori, ai risparmiatori e su questo lato Consultic ha fatto veramente molto e tanto. E mi piacerebbe condividere con voi questo percorso che noi abbiamo avuto in questi 20 anni, soprattutto anche perché si stanno avvicinando alla nostra categoria tanti giovani, tanti giovani che naturalmente vedono un mercato che è partito, un mercato interessante, la possibilità di aprire alla loro società di consulenza finanziaria, aprire il proprio studio professionale o, essendo giovani, naturalmente il percorso richiesto è quello di andare presso studi già operativi per apprendere dal punto di vista pratico l'attività, per poi ovviamente prendere la propria decisione, proseguire nello studio professionale o nella società, oppure poi in un secondo momento, quando uno avrà acquisito tutte le competenze, poter, vuol dire, svolgere l'attività in proprio. Quindi io direi che adesso faccio un escursus di quello che Consultic ha fatto negli ultimi 20 anni, perché veramente vi accorgerete di che cosa siamo riusciti a realizzare. E questa realizzazione cambia veramente il sistema finanziario della consulenza finanziaria in Italia. Bene, adesso vedo che c'è un problema, diciamo, di... No, ecco, tutto si è sistemato. C'è qualche problema, diciamo, sulle... Vediamo. Vai. Ecco, perfetto. Sembra che... Vediamo se tutto funziona. Bene. Quindi dicevo, 20 anni fa, la nostra mission, quella di diffondere la consulenza finanziaria indipendente in Italia. E soprattutto il soggetto indipendente, quindi il soggetto che è completamente staccato da banche, intermediari e altri soggetti che vendono prodotti. Attività professionale. Su questo punto siamo ormai, è ampiamente chiaro. Per noi un elemento fondamentale all'inizio era quello della formazione. Perché noi, avendo il know-how di come si esercita questa professione, per noi era fondamentale che, anche dal punto di vista teorico, le persone fossero preparate. Nel 2002, quindi solo dopo un anno della nostra Costituzione, siamo diventati il quarto ente formatore di questa certificazione. Allora c'era l'EFPA. Per quanto riguarda... E quindi subito abbiamo dimostrato la nostra attenzione massima alla preparazione professionale. Devo ricordare che ci sono tante certificazioni a livello mondiale. C'è la CFP, che è la più importante. Poi ci sono tante altre certificazioni. In Italia, essendo, dobbiamo dire, comunque a livello culturale un po' più arretrati, siamo ancora indietro da questo punto di vista. Comunque il 2002 è stato il primo tassello che noi abbiamo messo. Già nel 2004 siamo diventati i principali fornitori di analisi per il sole 24 ore. Noi eravamo l'unica società che a quel tempo aveva analizzato questo strumento finanziario, l'ETF. Nel 2001 l'ETF in Italia neanche esisteva. Era quotato su altri mercati. È arrivato nel 2002. Noi, siccome già conoscete che noi dobbiamo consigliare i migliori strumenti efficienti ai nostri clienti, l'ETF è uno degli strumenti finanziari fondamentali per costruire un portafoglio. Certamente non è l'unico, va combinato con altre tipologie di prodotti. Essendo l'unica società che aveva fatto questo lavoro, il sole 24 ore ci ha contattato e noi abbiamo prodotto il primo rating, probabilmente, devo dire, al mondo sui ETF, che poi ha avuto un'evoluzione veramente notevole perché si è dimostrato uno strumento molto valido. Collaborazione con il sole 24 ore, importante perché ci ha permesso di entrare a livello, diciamo, di media. Nello stesso tempo, il lavoro che noi portavamo avanti, che è quello ricordo della pianificazione del patrimonio del cliente. Patrimonio, quindi, finanziario, ma non solo. Sapete che noi ci occupiamo anche di assicurativo, previdenziale, successorio, fiscale, aziendale. E quindi era necessario per noi sistemare al meglio la situazione previdenziale dei nostri clienti. Abbiamo già analizzato i fondi pensione aperti e poi anche quelli chiusi e abbiamo prodotto il rating per il sole 24 ore. Siamo stati poi intercettati da tanti, diciamo, network, sia televisivi, sia media, eccetera. Qui vedete un po', diciamo, di vari interventi che abbiamo fatto in varie trasmissioni e televisive che, naturalmente, non sono avvenute solo nel 2005, ma sono proseguite nei vari anni. Questo perché? Perché noi, analizzando i portafogli finanziari, diciamo, dei nostri clienti, trovavamo all'interno, naturalmente, situazioni anomale. E questo era molto interessante perché eravamo l'unica società che svolgeva questo lavoro, andare a capire gli italiani cosa avevano in tasca. E questo è un risultato molto interessante per il MITE e lo è ancora tutt'oggi. 2005, Costituzione dell'Associazione di Categoria. Un passaggio importantissimo perché avevamo capito che la nostra figura professionale a livello, diciamo, di sistema finanziario tradizionale poteva essere non ben vista perché facevamo troppa trasparenza sul mercato. Trasparenza sui prodotti, trasparenza, vuol dire, su tutto, diciamo, ciò che riguarda la finanza e il patrimonio, diciamo, personale. Costituzione dell'Associazione di Categoria che è risultata fondamentale, fondamentale, lo vedremo nella serata successiva. Intanto nel 2006-2008 sono usciti i nostri primi libri sulla consulenza finanziaria indipendente con il sole 24 ore. Libri che, posso dire, sono ancora attuali. Per il loro contenuto, il mercato, meno male, vuol dire, non è andato avanti culturalmente, mentre noi eravamo già molto avanti. Associazione di Categoria fondamentale perché? Cos'è successo nel 2006? Nel 2006 era passato un emendamento che voleva impedire a chi non era banca di poter fare consulenza. Di fatto, la nostra categoria sarebbe sparita. L'azione che noi abbiamo fatto, lobbistica, è stata talmente forte che siamo riusciti a mandare in minoranza, in Commissione Finanze del Senato, il governo. Questo, diciamo, sarà raccontato in un libro che cosa siamo riusciti a fare in un tempo così breve. è stata un'azione veramente eccezionale. Siamo riusciti quindi a salvare la categoria prima delle persone fisiche, che poi, vedete, nel 2007 abbiamo riuscito all'articolo 18bis che permetteva, appunto, di proseguire l'attività per le persone fisiche. Poi nel 2008 c'è stato il decreto legge del MEF che stabiliva i requisiti delle persone fisiche, i requisiti per poter, diciamo, operare. Nel frattempo, cosa succede? Qua abbiamo messo una data, il 2008. 2008 perché è un po' significativa per il fallimento della banca Lehman Brothers. Ma una delle attività, che è un'attività non secondaria, e che consiglio a tutti coloro che vorranno svolgere questo mestiere di occuparsene, è tutta la tematica delle truffe finanziarie. Noi, dal 2001 fino ad oggi, tiriamo fuori le truffe finanziarie. Truffe finanziarie perché andiamo dentro i portafogli dei clienti, andiamo a vedere cosa c'è dentro, e purtroppo lì troviamo l'inghippo. L'investitore, il risparmiatore, non sa neanche, praticamente, diciamo, che tipologie di prodotti, diciamo, ha sottoscritto. Nel 2008 noi avevamo già comunicato al mercato, in tempi non sospetti, ufficialmente al mercato, che se doveva fallire una banca, questa era la Lehman Brothers. Naturalmente non siamo stati ascoltati, ma la nostra attività, che riguarda, diciamo, tutto il lavoro delle perizie tecniche e assistenza agli studi legali, riguarda il recupero delle somme. Perché il denunciare va bene, bravi, però noi, su tutte le truffe finanziarie, siamo andati a recuperare i soldi. In questo caso abbiamo fatto una causa, abbiamo fatto fare una causa alla finanziaria del comune di Padova, che aveva investito, aveva un patrimonio di centinaia di milioni di euro, e aveva investito decine di milioni di euro in queste obbligazioni. La causa, naturalmente, è durata quanto è durata, come sapete, ma l'abbiamo vinta, abbiamo recuperato i soldi, e addirittura dopo siamo andati a recuperare i soldi per i cittadini di Padova, perché il comune di Padova ha voluto favorire anche gli investitori padovani che erano rimasti incastrati in questa situazione. Un po' di truffe finanziarie ne abbiamo seguite tantissime, dai derivati alle banche fallite, che naturalmente le banche fallite, quelle non quotate, noi avevamo già analizzato i bilanci delle banche. Bastava confrontare il bilancio di una banca quotata con i bilanci di una non quotata, e si vedeva subito che c'era una tale differenza di valore, che naturalmente era palese. Noi naturalmente le nostre perizze tecniche erano molto più pregnanti, e andavamo a vedere le singole poste di bilancio per andare a estrarre effettivamente dove c'era l'inghippo. Quindi su questo discorso delle truffe finanziarie purtroppo proseguono e quindi è un'attività fondamentale perché porta grande vantaggio ai nostri clienti. 2009 riusciamo anche a imporre la possibilità per le società di consulenza finanziaria di operare. Passaggio importante perché permettere a chi vuole svolgere questo mestiere di poterlo svolgere sia come studio professionale o sia come società, voglio dire nel senso che uno si può scegliere e può mettersi assieme ad altri soci, è una possibilità in più che ha una grande valenza. Faccio un focus, ci tengo a farlo, sulle questioni dei derivati. Noi abbiamo fatto più di 3.000 perizze tecniche, abbiamo assistito enti locali, abbiamo assistito aziende su questi temi, siamo andati a fare trattative, a recuperare i soldi. Io sono stato in Commissione Finanze del Senato come uno dei massimi esperti in questa materia per tutte le trattative naturalmente che avevo portato avanti. Una cosa importantissima che sarà utile a tutti coloro che stanno svolgendo questo mestiere ma anche a coloro che lo svolgeranno è che è uscito un documento dal Commissione Finanze del Senato estremamente interessante in cui c'è scritto che gli enti locali all'epoca non erano assistiti da consulenti indipendenti e che quindi, se riuscite a leggere l'articolo 11 di questo documento, che ci tengo a veicolarlo a tutti perché è fondamentale, dice che gli enti locali dovranno avvalersi per la consulenza solo e unicamente dei consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo. Naturalmente all'epoca l'albo doveva partire ma non era partito e quindi non potevamo. Ci sono 8.000 comuni in Italia e quindi vi consiglio di prendere questo documento e di andare dal vostro comune e naturalmente far forza leva su questo elemento perché è un elemento fondamentale. 2011, eccoci qua a distanza di 10 anni da 2011, abbiamo lanciato il Fionli Summit e l'abbiamo lanciato perché volevamo festeggiare i 10 anni della nostra attività ma di fatto poi è diventato un involucro molto importante dove siamo riusciti a coinvolgere anche le altre associazioni di categoria che operano nel settore finanziario, le istituzioni, abbiamo avuto l'incontro naturalmente ieri, un incontro in cui ha partecipato anche il presidente della Consub oltre gli altri componenti dello CEFE che ricordo è l'organismo di vigilanza tenuta dell'albo dei consulenti finanziari, quindi è stato un involucro a questo qua del Fionli Summit fondamentale per l'affermazione della nostra figura professionale. 2012 escono anche i requisiti a cui si devono ottenere le società di consulenza finanziaria. 2013, data importante in quanto la clientela che si è avvicinata a chi svolge questa attività indipendente in questo caso naturalmente ConsulTIC ma la possibilità è lasciata anche a tutte le altre società si sono avvicinati i soggetti istituzionali, ad esempio qua abbiamo la fondazione pubblica RIMED fondazione pubblica ricerca mediterranea, una fondazione molto importante, patrimonio superiore ai 100 milioni ha scritto un bando, naturalmente bisognava vincere questo bando, ma in questo bando cosa c'è scritto? C'è scritto che voleva essere assistita solo da soggetti indipendenti e quindi da solo dalle nostre categorie nostre società o dagli studi professionali indipendenti. Abbiamo vinto questo bando e da di lì abbiamo proseguito su questo, tanti altri istituzionali hanno seguito questo percorso. Ricordo che i soci, gli azionisti della RIMED sono la presidenza del Consiglio dei Ministri, presidenza della Regione Sicilia, CNR e Università di Pittsburgh per capire il rilievo di questo soggetto. 2016, fatto importante che naturalmente ormai nel settore finanziario vi ricordate tutti quanti, le banche che sono fallite, anche le banche venete, noi abbiamo partecipato anche alla Commissione d'inchiesta regionale su questo argomento, perché noi analizziamo anche le banche, abbiamo salvato risparmiatori che avevano azioni di queste banche, naturalmente chi c'era all'epoca, se fossimo stati più consulenti indipendenti avremmo salvato più persone, purtroppo abbiamo salvato quelli che abbiamo potuto salvare. Però è importante che Consultic è stata chiamata direttamente su questo argomento a portare il proprio contributo. Eccoci al 2018, 2018 era l'inizio della costruzione dell'albo con le nostre sezioni, però è stato imposto all'Anafo, per la nostra associazione di categoria, uno spin-off. Cioè la normativa voleva che ci fossero un'associazione che rappresentasse solo le persone fisiche e un'associazione che rappresentasse solo le persone giuridiche. Abbiamo dovuto dividere l'associazione in due, NAFO persone fisiche, ASSO SCF persone giuridiche. NAFO ha avuto la possibilità di entrare subito ad associarsi all'OCF, ASSO SCF invece doveva attendere tre anni per normativa. Comunico oggi questo fatto molto importante che due giorni fa abbiamo avuto l'assemblea dell'OCF in cui anche ASSO SCF è entrata come socio dell'OCF. quindi abbiamo un rafforzamento della posizione della nostra figura professionale all'interno dell'albo unico significativa. Non ci sarò solo io, ci sarà anche il rappresentante a breve dell'ASSO SCF e quindi questo ci permetterà di portare avanti le nostre istanze, tutto quello che ci riguarda, per quanto riguarda la nostra crescita all'interno dell'albo e portare avanti diciamo tutto ciò che è utile per far funzionare meglio la nostra operatività, riusciremo diciamo ad avere maggior forza. Partito l'albo inizia a partire anche la comunicazione. Qua abbiamo messo una pagina del plus 24 in cui ci hanno dedicato la pagina a noi. Quanto vale ad esempio il consulente indipendente. Oggi io ritengo che la maggiore comunicazione che noi riusciamo a fare sugli investitori e risparmiatori perché sono ancora i soggetti che non conoscono questa figura. Sul mercato finanziario ci conoscono le banche e gli altri soggetti. Adesso dobbiamo arrivare all'investitore finale. L'investitore finale sta rispondendo in maniera significativa perché ci sono 500 già soggetti che stanno operando sul territorio e stanno diffondendo la conoscenza di questa figura professionale. Utilizzano i social, utilizzano i loro sistemi di comunicazione. Noi come NAFOB abbiamo già previsto per il 2022, abbiamo fatto un lavoro veramente importante per fare una comunicazione efficace che ci permetterà ovviamente di dare quel contributo molto positivo a tutti i pionieri della consulenza. Pionieri perché abbiamo superato i 500 soggetti, ma 500 soggetti sono pochi rispetto alla platea di investitori e risparmiatori. E quindi naturalmente noi ci aspettiamo nel prossimo anno o fra due anni che ci sia veramente un imbuto perché il risparmiatore che cerca il consulente indipendente va a cercarlo soprattutto nel suo comune e se il comune è scoperto voglio dire andrà un po' più vicino. Quindi benvenga che i pionieri abbiano il loro giusto riconoscimento. Qui ci sono i numeri ad oggi, gli iscritti ad oggi, quindi sono 425 consulenti finanziari, indipendenti e 47 società di consulenza finanziaria. Però ci sono circa già 50 domande presentate di iscrizione. Quindi noi a fine anno abbiamo ampiamente, come dicevo prima, superato le 500 soggetti operativi e c'è un'accelerazione che è avvenuta nel secondo semestre del 2021. Evidentemente ormai siamo stati sdoganati ormai da tempo. La mission di Consultic fin dalla sua nascita era quella di abbattere le barriere d'ingresso a questa professione e di permettere a tutti coloro che vogliono svolgere questo mestiere di svolgerlo al meglio. Ad oggi noi assistiamo circa l'80% di tutti coloro che stanno operando come persone fisiche e 70% di chi sta operando come società di consulenza finanziaria. Ci teniamo tantissimo alla qualità e alla professionalità dei soggetti che possono ampliare i propri servizi, che non rimangono solo nell'ambito finanziario ma che svolgono effettivamente la pianificazione, è molto importante e quindi noi puntiamo affinché uno possa svolgere più servizi possibili. altri argomenti da parlare ce ne sarebbero molti. Avremo un intervento durante questa giornata sul grande lavoro che abbiamo fatto come Consultic per creare, per evolvere la nostra piattaforma di assistenza a tutti coloro che vogliono fare questo mestiere o lo stanno facendo. La nuova piattaforma for only platform. Professionalità, vi ho già parlato, ci teniamo. La qualità è fondamentale. Questo mestiere non si invinta. Questo è un mestiere professionale. Questo mestiere non può essere esercitato da chiunque. Ci vogliono anni per riuscire a esercitarlo al meglio. E se per caso sentite qualcuno che dice che è un mestiere che possono fare tutti, non è vero, è una falsità. E come tutti i mestieri, chi fa l'avvocato, chi fa commercialista, sapete benissimo il percorso che uno deve fare. Quindi non bisogna illudere nessuno. I giovani dovranno giustamente imparare prima la teoria e poi andare a fare pratica presso gli studi professionali o le società già operative sul territorio. Oggi c'è questa opportunità. Social comunicazione, fondamentale. Sappiamo benissimo che la comunicazione si è spostata su questi canali. Anche oggi parleremo di questo aspetto che è fondamentale e quindi utile a tutti quanti. ultima cosa che ci tengo a evidenziare è che il contributo che la nostra figura professionale può portare, anzi porterà sicuramente al mercato finanziario, agli investitori, ai rispermiatori, è che pochi di voi, io ritengo che ancora sanno, che nelle tasche degli italiani si trova un livello di inefficienza di prodotto finanziario estremamente elevato. Questo non lo dice solo Consultic che ha analizzato da vent'anni i portafogli dei clienti. Ci sono ricerche internazionali primarie che facendo un'analisi sui prodotti finanziari, confrontandoli con il loro benchmark, col mercato che dovrebbero battere, riportano ancora purtroppo questi dati. Vediamo che per quanto riguarda il mercato azionario, nel medio e lungo termine i fondi e le gestioni che superano il loro mercato di riferimento è bassissimo, circa quasi il 90% è sotto benchmark e per l'obbligazionario la situazione è ancora peggiore. Quindi uno dei lavori che noi dobbiamo fare, che non è quello principale della pianificazione del patrimonio, ma quello di andare a pulire i portafogli dei clienti avremo bisogno di almeno 20 anni, perché qua ci sono investiti centinaia di miliardi di euro. Ma questo non è un messaggio negativo per il mercato, per coloro che fanno gestioni attive. È perché qui all'interno ci sono gestori veramente validi, perché tutti quelli, quel 5%, 10% sono gestori veramente di livello e quindi nella composizione di un portafoglio del nostro cliente va inserita anche la gestione attiva. Noi dobbiamo trasferire dai prodotti inefficienti ai prodotti efficienti. Dati qui avete capito che qualsiasi investitore o risparmiatore che voi incontrate ha inefficienze. E poi la cosa, ecco, quella che dà un po' più di fastidio, sinceramente, è quella che quando sono i prodotti previdenziali, perché lì si va a toccare l'integrazione pensionistica e questa è una cosa, devo rilevare, grave, perché toccare l'integrazione pensionistica è una cosa veramente pesante e lì c'è tantissimo lavoro da fare. Ultima slide. Si parla tanto di cultura finanziaria. L'Italia, come vedete qui, è all'ultimo posto nei 26 paesi più evoluti al mondo, assieme a Taiwan. Ma quali sono i paesi dove la cultura finanziaria è più elevata? Sono i paesi dove si è sviluppata la consulenza finanziaria indipendente. Questa è la risposta. Quindi, quando si parla di cultura finanziaria, sappiate che la risposta c'è già. Fate sviluppare più velocemente la consulenza finanziaria indipendente. E su questo tema risolverete anche quel tema dei 1750 miliardi o di più, perché continuano a aumentare, di soldi che si trovano sui conti correnti, perché la gente ha perso fiducia e lascia i soldi sui conti correnti. Invece, con il nostro intervento, rimetteremo in circolo queste cifre e potete immaginare come il PIL dell'Italia ne avrebbe un grande vantaggio da un investimento minimo di liquidità che va a essere investita in strumenti efficienti. Bene, io ho concluso qui il mio intervento. Vi ringrazio ancora, diciamo, della numerosa partecipazione che c'è online e anche, diciamo, vedo la presenza fisica che ospichiamo il prossimo anno di avere più numerosa e di poter festeggiare come gli altri anni in involucri fatti apposta, diciamo, dove ci possa essere interscambio personale. Grazie. Grazie, grazie Cesare Armellini. Passiamo la parola a Luca Mainon. Grazie. Dopo questa bellissima presentazione penso che si sia capito quanta fatica e quanto impegno ci ha voluto per arrivare fino a qua in questi vent'anni, più di vent'anni ormai. Molto interessante come si sta evolvendo il mercato, è molto importante anche capire qual è stata l'evoluzione della domanda di consulenza. Non so se avete notato, prima Cesare ha parlato dei clienti istituzionali, quindi fondazioni eccetera. Ecco, fino ad oggi c'è stata una domanda di questo genere, quindi clienti istituzionali, ha i network individuals, ossia persone con patrimoni importanti, famiglie con esigenze complesse, sofisticate. Ecco, adesso la svolta, c'è una svolta, lo stiamo notando negli ultimi un anno e mezzo, due anni, si sta avvicinando alla consulenza indipendente anche, diciamo, la gente normale, quindi le famiglie, i privati, con patrimoni normali nella media, e questa è un'evoluzione estremamente importante perché in sostanza consentirà un ulteriore sviluppo della consulenza indipendente, il punto è che, come accennavamo prima, non c'è offerta, perché è vero che abbiamo dei numeri estremamente significativi, perché nessuno avrebbe mai pensato che in due anni, e mezzo arrivassimo a oltre 500 colleghi, 50 società, però ovviamente ci sono tanti, ma non sono sufficienti a colmare, cioè come dire, a seguire la crescita della domanda di consulenza finanziaria. Su questo ovviamente ci stiamo concentrando, voglio ringraziare tutti i colleghi di NAFOP, di ASSO SCF, anche ieri pomeriggio è stato un bellissimo incontro tra di noi, ci sono state veramente un confronto tra colleghi, uno scambio di idee, una discussione molto interessante. Ho notato molto entusiasmo e soprattutto molti colleghi mi hanno detto che stanno comunicando, stanno organizzando delle cose, adesso che ci si inizia di nuovo a muovere con eventi in presenza, sebbene magari più piccoli, più circoscritti, però si inizia a interagire di più con le persone e soprattutto molti colleghi hanno iniziato a farsi vedere attraverso il web, attraverso i social, attraverso il proprio sito internet, c'è gente che per la prima volta ha creato il proprio sito. Questo è estremamente importante, siamo tutti ormai sui social, ad esempio, adesso qua c'è una slide che dopo vi illustro che stiamo facendo un lavoro estremamente importante che ha molto successo, molta interazione su LinkedIn, dopo ve ne parlo. Ecco, oggi c'è un appuntamento molto importante, oggi pomeriggio alle 17, dove parleremo, dove spiegheremo quello che stiamo facendo, soprattutto per i giovani, sui canali Instagram, sui canali social, scusate, su YouTube, con l'iniziativa bellissima di Consulting Now e parte i giovani, ci sarà un bellissimo evento. Ecco, su LinkedIn stiamo lavorando tantissimo. Ad esempio, io ieri, l'altro ieri, ho avuto così un'ispirazione e ho buttato giù uno schizzo perché ho notato, l'altro giorno sono andato in università alla Bicocca a presentare la consulenza indipendente a molti ragazzi che stanno facendo il corso di Economia e Finanza all'interno appunto dell'Università della Bicocca e sono stati molto colpiti dai modelli di remunerazione dei consulenti finanziari che esistono sul mercato, che sono sul mercato e questo non me lo sarei mai aspettato. E allora così, tornando a casa, ho avuto così questa mini ispirazione, ho buttato giù questa questa piccola rappresentazione grafica dove in sostanza mette insieme da un lato la trasparenza e da un lato l'indipendenza, quindi sull'asse delle ordinate ho messo il livello di trasparenza e il livello di indipendenza, i vari modelli remunerativi. È molto semplice se voi ci mettete due secondi per ragionarci sopra un attimo, è molto semplice. Si va dal modello commission-only solo a commissione che ovviamente c'è un basso livello di trasparenza e un basso livello quasi zero di indipendenza e poi si percorre lungo il grafico e si cresce un attimo, c'è il concetto del fee on top, poi c'è il fee and commission, quindi si cresce e ci si sposta sempre di più verso destra, poi c'è il fee offset, si parla molto di consulenza su base indipendente, sapete benissimo la consulenza su base indipendente è stata un'idea del legislatore europeo per consentire agli intermediari e alle banche di poter fare una consulenza che si avvicinasse al concetto di consulenza indipendente, ma non è la consulenza indipendente, e di fatto in Italia abbiamo visto che è stata sostanzialmente un flop e non si è sviluppata. Quella che si è sviluppata in maniera significativa con le nostre due sezioni e con i numeri di cui appunto abbiamo parlato fino ad oggi e che Cesare ci ha illustrato in maniera perfetta è la consulenza fee only pienamente indipendente, cioè fully independent. stiamo lavorando con le associazioni, siamo già intervenuti su alcune consultazioni ESMA nelle quali abbiamo portato l'esperienza italiana, quindi abbiamo detto cari legislatori europei sappiate che in Italia si sta sviluppando il modello non su base indipendente ma il modello fully independent, il modello dove c'è l'indipendenza sia del servizio ma del soggetto e la famosa requisito di indipendenza soggettiva che solo noi consulenti iscritti all'albo nella sezione degli autonomi e delle SCF possediamo e è un nostro requisito strutturale. Ecco, così ci tenevo a presentare questa cosa pensate che questo schizzo buttato su LinkedIn circa 24 ore fa ha già avuto oltre 7000 visualizzazioni. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi quanto interessano tematiche che sembrano magari nostre, sembrano delle tematiche così di nicchia e invece interessano ovviamente gli operatori del settore. Però ecco, estremamente interessante questa cosa. L'altra cosa che volevo dire, l'altro appuntamento oltre a quello delle 17 sulla parte social l'altro appuntamento importante è quello delle 13 dove Giuseppe e i suoi collaboratori parleranno della nostra piattaforma. Devo dire uno sforzo immane, cioè vent'anni di lavoro condensati in uno strumento, devo dire eccezionale, lo uso quotidianamente, è veramente uno strumento che, diciamo così, fa invecchiare tutto il resto. Cioè i software che esistono eccetera vi dico veramente prendeteli, non dico buttateli via, però metteteli nella bacheca e avvicinatevi alla Fioli Platform. Poi ve ne parlerà in maniera approfondita appunto Giuseppe che è un po' l'ideatore di questa, di questa, diciamo, upgrade del nostro sistema che esiste già da vent'anni e è un po' in uso a tutto il mondo della consulenza indipendente che fa questa attività in maniera professionale seria però, perché poi ovviamente c'è ancora in giro chi usa così strumentini, l'Excel, le cose eccetera. È ovvio che chi fa questa attività in maniera professionale deve avere strumenti professionali che consentano di poter erogare un servizio all'altezza e percepito in maniera corretta dal cliente che è in grado e è voglioso di remunerarne appieno il valore e la qualità. Quindi si parlerà di RegTech, abbiamo automatizzato tutte le fasi del processo di compliance e quindi la compliance adesso francamente ci fa sorridere, Giuseppe è contentissimo di essere riuscito a, come dire, trasformare in uno strumento efficiente, un po' il regolamento, il nostro regolamento intermediari, la ricerca indipendente e addirittura, che ci è stata molto utile nel periodo del lockdown, il nostro sistema di onboarding digitale dei clienti con l'identificazione a distanza ai fini della normativa antiriciclaggio. Quindi concludo gli ultimi due minuti e poi do la parola a Giuseppe che appunto terminerà il nostro intervento iniziale. è un Fiolli Summit questo che vuole rappresentare un po' il ritorno, diciamo così, in punta di piedi alla vita normale. Speriamo, come accennava prima Cesare, che l'anno prossimo si riuscirà a fare il mega evento, mi ricordo nel 2019 quando eravamo in, non so, 1500 persone, mega cena, mega evento, eccetera. Piano piano ci stiamo arrivando, tra l'altro in collegamento credo che ci siano molte più persone rispetto alle 1500 che c'erano in presenza nel 2019, quindi diciamo che il digitale ci ha aiutato molto anche a svilupparci. Dicevo, la cosa importante è che oggi ci sono degli interventi estremamente interessanti, subito dopo di noi ci saranno i Fiolli Talks, quindi i Fiolli Talks delle 10.30, quattro interventi estremamente interessanti, vi invito a seguirli con attenzione, sono interventi di 15-20 minuti di alcuni protagonisti della industria e della finanza, e i Fiolli Talks ci saranno anche oggi altri 4-5 interventi alle 15.30, però ci sono anche delle tavole rotonde estremamente interessanti dove si parlerà di fintech, di tecnologia, si parlerà ovviamente di pianificazione, che dovrebbe essere il servizio principale dei consulenti, e poi quella delle 5, ve l'ho già detta, importante sul tema dei social, e poi alle 18 ci sarà una consulenza interessante, Consulenza Fion, l'idea per investire, per concludere poi, come sempre, ormai un cult con il mitico professor Pelanda che farà il suo intervento geopolitico. Quindi io adesso mi taccio, grazie di essere qui, e do la parola all'amico socio Giuseppe Romano. Bene, grazie della vostra presenza. Noi l'anno scorso eravamo rimasti dicendo che avremmo sviluppato proprio questa piattaforma, che poi avrete modo di vedere alle ore 13, e soprattutto anche un potente motore di robot advisor all'interno, che noi poi chiamiamo CF Advice. E abbiamo investito tantissimo in quest'ultimo anno in tecnologia, e investiremo ancora di più in tecnologia negli anni a venire. Perché siamo convinti che l'investimento in tecnologia sta aiutando tantissimo a ridurre i tempi e i costi di lavoro dei consulenti indipendenti. Più investiamo in tecnologia, che man mano diventa sempre più anche a riduzione di costo, più si riescono ad avere dei sistemi operativi e practice di lavoro che permettono poi al consulente di svolgere al meglio la propria professione, in tutti i sensi, a 360 gradi. Per il prossimo anno quali sono poi in cantiere? Cosa stiamo sviluppando ancora? Stiamo potenziando ancora di più la parte proprio di automazione, proprio dei robot advisor, perché di fatti poi le casistiche dei consulenti possono essere molto molto differenziate. Quindi ci sono varie variabili da considerare, quindi noi vogliamo abbracciare tutte le variabili possibili, tutte le casistiche possibili consulenziali, sia in terma manuale, ma soprattutto in terma di automazione. Quindi il concetto di automazione per il prossimo anno, sempre di più di automazione, è il concetto che porteremo avanti anche a livello di investimento e di risorse. Tant'è vero, l'altro punto per cui cercheremo il prossimo anno di sviluppare sempre di più sono i collegamenti con i flussi dati delle banche. Noi abbiamo già iniziato questo percorso, cercheremo di integrare sempre di più sistemi bancari, ovviamente con l'autorizzazione dei clienti, per poter gestire gli eseguiti, perché nel momento in cui io genero una raccomandazione, adesso siamo arrivati al punto che comunque il sistema automatizza il tutto e genera la reportistica, genera le raccomandazioni, fa l'adeguatezza, fa il sistema già di archiviazione, spesso manca solo un tassello che è quello dell'acquisizione automatizzata dell'eseguito, ma questo a livello tecnologico oggi è possibile, abbiamo iniziato a farlo con un intermediario, ci sono altri intermediari, faremo sempre in modo di più per cui un consulente che dalla propria piattaforma genera una raccomandazione al cliente, si trova direttamente gli eseguiti e ha aggiornato il portafoglio sulla propria piattaforma, riducendo questi tempi. E questo è il nostro punto di arrivo dove vorremmo arrivare, la normativa e la tecnologia lo stanno iniziando a permettere, quindi sempre di più andremo verso questi aspetti, una cosa importante. Un altro aspetto importante che vogliamo comunque sviluppare e accelerare sempre di più, perché crediamo veramente tantissimo, è la pianificazione finanziaria. La pianificazione finanziaria integrale, non pensiamo che il lavoro del consulente finanziario indipendente o comunque la consulenza finanziaria indipendente sia una mera attività di asset allocation, cioè fare delle belle torte per il cliente, magari solo di ETF così il cliente è anche bello contento, sappiamo che gli ETF sono efficienti per definizione, e definisce il lavoro del consulente, assolutamente no. La nostra attività è un'attività di pianificazione finanziaria, per obiettivi, prima di tutto, gli obiettivi sono diversificati, le strategie anche di asset allocation sono differenziati rispetto agli obiettivi. Ma non solo, perché noi andiamo a costruire, e lo faremo sempre di più, quelle che sono le interazioni nelle varie aree del nucleo familiare, quindi partiamo da uno stato patrimoniale, facciamo il conto economico, facciamo il budget plan del cliente, ma soprattutto vediamo le interazioni tra i vari aspetti, tra l'aspetto assicurativo, tra il capitale umano, tra l'aspetto previdenziale, quindi sono tutti aspetti collegati. Il finanziario è un elemento all'interno, è l'olio che fa girare un motore, ma di fatti ci sono altri aspetti da considerare, si considera l'immobiliaria, si considera l'impatto dell'azienda, del proprio lavoro, all'interno degli obiettivi, dell'esigenza e dei rischi che ci sono. E su questo sempre di più cercheremo di fare formazione, cercheremo di sviluppare come l'abbiamo già fatto e sviluppiamo sempre di più i sistemi operativi di financial planning, per cui avete sempre di più a disposizione degli strumenti e dei motori potentissimi che aiutano comunque a fare un lavoro del genere. In più, una cosa importante è l'elemento umano, perché i software, come diciamo sempre, aiutano a tracciare, quindi ad acquisire dei dati, a fare dei calcoli, sono dei calcolatori, ma poi quei legamenti, quei legami che è fondamentale avere tra i soggetti e le interazioni nel nucleo familiare, le variabili, i rischi, le opportunità e le situazioni che ci possono essere, e dare delle informazioni, dare delle leve di uscita ai clienti, prescindono spesso solo dall'asset allocation, dall'investimento finanziario, ma vanno oltre. Diventiamo un po', si parla sempre di finanza comportamentale, perché? Perché, di fatti, il FIENDE non ha bisogno di guadagnare in quanto tale, ha bisogno di realizzare delle esigenze, lui e del nucleo familiare. Quindi il nostro primo aiuto è quello di aiutarli a trovare quelle esigenze. Bisogna capire quali sono le esigenze e quali sono le vie attraverso le quali quelle esigenze possono essere realizzate, con quale modalità possono essere realizzate. Ed è fondamentale iniziare a ragionare anche in termini di probabilità. Qual è la probabilità di poter realizzare quegli obiettivi che il cliente si è dato? Dato un insieme di variabili, di tassi, di costi, di redditività, di flussi in-out, di finanziamenti in essere, dell'immobiliario che ha, dell'incertezza lavorativa. In funzione di questo io voglio capire se può realizzarlo, sotto quali condizioni può realizzare, o con quale probabilità può realizzare, in quali tempi può realizzare queste cose qua. E quindi questo è un po' il punto di arrivo del consulente. Perché altrimenti il consulente si fissa solo insieme al cliente su una percentuale. Quindi la valutazione del consulente è fatta altrimenti solo su una percentuale, che si chiama performance. Magari il primo anno gli faccio l'asset allocation fatta bene, gli tolgo i costi occulti e le inefficienze del portafoglio, ma dal secondo anno in poi o aggiungo servizi e gli do i servizi, come diceva anche Cesare, di pianificazioni previdenziali, di pianificazioni assicurativi, immobiliari, successori, leggo le attività e quindi cerco di dare soluzioni che vanno oltre l'asset allocation, allora lì veramente faccio un passo avanti, ma soprattutto mi slego dal concetto meramente dei mercati finanziari e di ogni giorno come si muovono i mercati, perché sto ragionando in un'ottica completamente nuova e completamente diversa. Bene, direi che abbiamo iniziato con uno splendido excursus anche con degli spunti di ciò che andremo ad affrontare insieme nel corso di questa giornata. Non mi resta che lasciare alla regia qualche istante, invitare chi ci sta seguendo anche in remoto e soprattutto chi è presente a rimanere con noi, perché alle 10 e 30 inizieremo con appunto il primo tavolo tecnico. Quindi continuate a seguirci. Grazie. Applausi Applausi Grazie Grazie